In apertura subito alla pagina dedicata ai vaccini, in Abruzzo l'andamento della campagna ha subito una flessione nella somministrazione delle dosi, a determinarlo le accelerazioni e anche le frenate a livello comunicativo, in particolare sul siero AstraZeneca. A conclusione di una settimana in cui non sono mai state superate le 11.000 vaccinazioni quotidiane, la giornata di ieri ha fatto registrare il dato più basso del periodo, 8.314 dosi, 7.000 delle quali con il siero Pfizer. Ad oggi l'Abruzzo ha comunque somministrato 1.087.000 dosi vaccinali, vale a dire il 93,9% di quelle consegnate, dato più alto di oltre un punto rispetto alla media nazionale, mentre è salito a 344.479 il numero degli abruzzesi che hanno ricevuto anche il richiamo o il monodose Johnson & Johnson. Con il calo del volume delle somministrazioni quotidiane si allontana la data prevista per la cosiddetta immunità di greggio. Secondo le elaborazioni del sole24ore.com ci vorrebbero 3 mesi e 8 giorni per coprire l'80% della popolazione vaccinabile. L'obiettivo quindi sarebbe raggiunto non più ad agosto ma il prossimo 27 di settembre.